Nel prossimo affascinante episodio di Beautiful, in onda il 25 ottobre 2023, vi attendono sorprese mozzafiato. Mentre viaggiamo verso la casa sulla scogliera, vi diamo un benvenuto caloroso al nostro canale. In questo nuovo video, vi sveleremo un'anteprima di ciò che accadrà nell'universo della SOP. Vi preghiamo gentilmente di sostenerci mettendo un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale. Steffi sarà sbalordita quando scoprirà che i suoi genitori, Taylor e Ridge, si sono scambiati un bacio a Monaco. Per lei, questo gesto non può passare inosservato, e insisterà sul fatto che un bacio ha sempre un significato profondo. Taylor risponderà con un enigmatico sorriso, ammettendo che, sebbene il bacio sia avvenuto, lei e Ridge non hanno ancora affrontato seriamente la questione. Steffi non si accontenterà di queste mezze verità e sottolineerà che quel bacio è stato con l'uomo che Taylor ama, avvenuto in uno dei luoghi più romantici del mondo. Tuttavia, Taylor cercherà di minimizzare la situazione, definendo il bacio come un momento isolato e sottolineando la sua complessità. Ma Steffi non si darà per vinta, insistendo a Finn che sua madre segua il proprio cuore con determinazione. Tutto cambierà quando Finn farà il suo ingresso, dopo una visita medica. In quel momento, sia Taylor che Steffi interromperanno immediatamente la loro conversazione. Finn, appena arrivato, inizierà a parlare con entusiasmo, raccontando dei progressi positivi nella sua guarigione. Con un tocco di umorismo, scherzerà sul fatto che avrebbe quasi perso il suo appuntamento a causa delle numerose persone che lo fermavano per chiedere del suo stato di salute nei corridoi. Ma percependo il silenzio imbarazzante delle due donne, Finn si accorgerà di aver forse interrotto qualcosa di importante. Con un sorriso contagioso, Steffi condivide l'aneddoto del bacio tra sua madre e Rige. Finn, visibilmente felice, scherza e ride, commentando che sembra che incontri inaspettati stiano accadendo ovunque. Taylor, al contrario, mostra una riservatezza decisa e dichiara che preferisce basarsi sui fatti piuttosto che lasciarsi coinvolgere in speculazioni. Taylor chiede gentilmente a Finn e Steffi di mantenere segrete le informazioni che ha condiviso con loro, quindi si allontana, lasciando i due soli. Una volta soli, Finn non può fare a meno di baciare appassionatamente Steffi. Con un'occhiata maliziosa, Steffi gli fa capire che quando parla di attività normale, non si riferisce solo al lavoro, ma anche al piacere. La passione tra loro cresce, e iniziano a scambiarsi baci appassionati. Tuttavia, durante un momento intimo, Steffi si ferma quando toglie la camicia a Finn e nota la cicatrice sul suo petto, ricordo di quando è stato ferito nella casa di Brooke. La donna sente che qualcosa preoccupa Rige. Lui si alza dal suo posto accanto a Brooke sul divano e inizia a camminare nervosamente per il soggiorno. Rige ricorda il momento in cui ha visto Finn a Monaco. Aggiunge che lui e Taylor sono stati molto coinvolti in quel momento. Brooke suppone quindi che dietro a quelle parole ci sia il fatto che ciò che Rige e Taylor hanno condiviso a Monaco debba essere stato molto speciale. Nel frattempo Liam inizia a spogliare Hope mentre iniziano a approfittare appieno del fatto di avere il capanno tutto per loro. Dopo che i due fanno l'amore si preparano per un'altra sessione di passione. Prima che ciò possa accadere però arriva Brooke a far loro visita. Brooke spiega che ha deciso di lasciare che Rige e Taylor abbiano un momento per condividere gli eventi speciali e appassionati che hanno vissuto a Monaco. Brooke non è sicura di cosa significhi per il suo matrimonio ma insiste sul fatto che non vuole costringere Rige a scegliere tra la famiglia che ha con Brooke e quella che ha con Taylor. Nella lussuosa suite esecutiva di Forrester, Rige si ritrova immerso nei ricordi del bacio condiviso con Taylor a Monaco. Tuttavia, il presente lo riporta alla realtà quando Taylor entra nella stanza per visitarlo. Rige, con uno sguardo profondo, rivela a Taylor che stava proprio pensando a lei e riflettendo su come potrebbe essere la situazione a casa di Steffi. Taylor, con un sorriso caldo, risponde a Rige dicendo che è sempre il benvenuto nella loro casa. Sottolinea con meraviglia quanto sia sorprendente il fatto che Finn e Steffi abbiano avuto una seconda possibilità. Poi, con una nota di riflessione, Taylor si chiede ad alta voce se anche lei e Rige siano pronti per una loro seconda opportunità, lasciando che questa domanda fluttui nell'aria tra loro due. Carica di significato e speranza. Nelle anticipazioni di Beautiful, finalmente giunge la fine dell'incubo di Shayla. Questo evento epocale sarà al centro dell'intera puntata del 26 ottobre 2023. Siamo entusiasti di condividere con voi un'anteprima di cosa accadrà nel futuro emozionante della SOP. Per favore, sosteneteci mettendo un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale. Alla Forrester Creations, Brooke è immersa nel suo lavoro quando riceve una chiamata dal detective Sanchez che cerca Rige. Sanchez ha un aggiornamento su Shayla. E poiché Baker è impegnato in tribunale, ha incaricato Sanchez di parlare con i Forrester. Brooke si offre di radunare la famiglia in ufficio per l'incontro. Nel frattempo, nella casa sulla scogliera, Steffi e Finn si godono la loro straordinaria notte trascorsa insieme. Entrambi sono increduli per quanto è successo. Steffi condivide che ha fissato Finn per tutta la notte e ha toccato lui per assicurarsi che fosse tutto reale. Entrambi riflettono sulla fortuna di essere di nuovo una famiglia. Poco dopo, arriva Liam e li avverte sul fatto che i bambini sono fuori con la babysitter. Sottolinea che non si può mai essere troppo cauti con Shayla in libertà. Steffi riceve una chiamata da Brooke, che le chiede di incontrarla in ufficio per ricevere notizie su Shayla. Steffi accetta, coinvolgendo anche Finn e Liam, e informerà anche Taylor della situazione. In seguito, Eric, Brooke e Taylor si trovano nell'ufficio del CEO quando Liam, Finn e Steffi fanno il loro ingresso. Eric esprime la sua gioia per il fatto che Finn sia vivo e che Steffi e lui siano finalmente di nuovo insieme. Taylor, invece, rivolge a Liam una domanda su perché non abbia detto a Steffi prima che Finn fosse ancora vivo. Liam risponde sinceramente, spiegando che, guardando indietro, avrebbe potuto fare le cose in modo diverso. Ma il suo unico obiettivo era quello di salvare suo figlio e non ferire o ingannare nessuno. Poco dopo, fa il suo ingresso il detective Sanchez, portando con sé notizie cruciali. Sanchez rivela che la polizia ha localizzato la fuggitiva Shayla. Spiega che Shayla si era nascosta in città per un po', ma in seguito aveva lasciato Los Angeles. Una telecamera di sicurezza aveva ripreso Shayla in un negozio poco fuori città. Sanchez mostra al gruppo le immagini catturate dalla telecamera, e Eric e Finn sono convinti che sia Shayla. Sanchez prosegue spiegando che hanno trovato un'auto abbandonata che aveva le impronte digitali di Shayla in un campeggio fuori città. Un guardiano del parco aveva inviato foto di segni di un attacco da parte di un orso nelle vicinanze, insieme a macchie di sangue, la patente di Shayla, un cellulare rotto, dei capelli e brandelli di vestiti. Il poliziotto afferma che gli esami del DNA hanno confermato che tutto ciò appartiene a Shayla Carter. Quindi, le autorità ora considerano Shayla ufficialmente deceduta. Per rendere la notizia ancora più definitiva, mostra loro un dito mozzato con un'unghia nera smaltata, che apparteneva chiaramente a Shayla. In quel momento, un senso di shock e sollievo pervade tutti, ma soprattutto Finn, che è profondamente scosso. Finalmente sembra che la terribile saga legata a Shayla sia giunta al termine. Shayla è andata via per sempre. Nel cottage di Brooke, Hope e Liam si coccolano e si chiedono quanto potranno godersi il tempo da soli, la coppia si ritiene fortunata che la loro famiglia stia così bene in questo momento. Dopo poco arriva al cottage anche Thomas per vedere suo figlio e, con Liam e Hope, parlano di Shayla. Tutti e tre concordano che è meglio concentrarsi sul bene che sia, piuttosto che farsi troppe domande sul futuro. La presenza di tutti i loro figli fa virare poi la conversazione su quanto siano fortunati a riuscire ad avere dei figli sereni nonostante tutto. Thomas sente molto la mancanza di Douglas, che vive con Hope e Liam e vorrebbe si trasferisse da lui ma a quelle parole di idillio sembra spezzarsi e Hope, stizzita blocca l'argomento sul nascere e Thomas lascia velocemente la casa lasciando Hope e Liam svalorditi dalle notizie che Thomas ha dato loro. Fuori dal cottage Thomas giura a se stesso di voler essere più coinvolto nella vita di Douglas, dice che Douglas non dovrà mai dubitare di quanto suo padre lo ami e che è arrivato il momento di cambiare le cose. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Grazie.